Sarebbe stata la gelosia ad accecare un gruppo di tre giovani di Erkia raggiunti da ordinanze di misura coercitiva personali firmate dal GIP del Tribunale di Brindisi su richiesta del PM. Il trio, secondo l'accusa, sequestrò un ragazzo del posto di fatto salvato dai carabinieri della locale stazione grazie ad un controllo stradale. Ne guai altre tre persone accusate di favoreggiamento ed emblema di un muro di umertà scavalcato così dalle indagini dei militari confluite nell'operazione silente. La vittima, il 5 ottobre dello scorso anno, era stata prelevata con un tranello, fatta salire in auto e trasportata nelle campagne. Così era stata malmenata perché colpevole di avere intrattenuto una relazione sentimentale clandestina con la fidanzata di uno degli stessi sequestratori in mattinata arrestato in regime di domiciliari. Obbligo di presentazione invece per i suoi due amici. Altri tre giovani dovranno rispondere invece di favoreggiamento. A margine si evidenzia la paura della stessa vittima che temendo ritorsioni non denunciò i suoi presunti aguzzini restando a punto silente.